buonasera il calcio è malato anche il calcio di serie c che sembrava aver chiuso la propria stagione in maniera definitiva ha visto arrivare da roma ordini superiori e la serie c in parte ha detto obbedisco e riprende incredibilmente in questa seconda metà di giugno anzi nei primi di luglio dopo tre mesi di stop la propria cavalcata la serie c è un calcio sicuramente più puro di quello della serie a e della serie b meno contagiato sia chiaro campionato concluso ma la lega ha imposto playoff e play out intanto è ufficiale la promozione delle prime classificate nei tre gironi vale a dire monza vicenza e regina ma nel calcio tante cose stanno cambiando a questo livello veramente accade di tutto tanto che per disputarsi l'ultimo posto per la serie b vengono chiamate in campo pensate nel mese di luglio 18 squadre incredibile da giocarsi tutto in in spareggi tanto che squadre blasonate e da venti diritto alla chance promozione hanno già detto che non parteciperanno roba la terza categoria nomi illustri come arezzo modena piacenza pontedera propatria viterbese hanno detto la lega che loro non partecipano una cosa inimmaginabile fino a qualche anno fa intanto il presidente della lega però ghirelli in una intervista rilasciata a un quotidiano del mezzogiorno ha spiegato i motivi per chi ha scelto playoff e play out ha detto se avessimo ripreso il 21 giugno con 23 gare ancora di campionato coppa e pareggi avremmo finito il 9 settembre quindi questa è la cosa migliore che potevamo fare pensate un po la cosa migliore quindi niente conclusione del campionato dopo quattro mesi praticamente via i play off il via è previsto il primo luglio pensate primo luglio col primo turno in gara unica la fase play off nazionale si giocherà il 9 luglio con il primo turno e il 13 luglio col secondo turno mentre la final four che deciderà la squadra che approderà in serie b bisogna aspettare ancora perché tutto è ancora incredibilmente vago perché c'è una finale di coppa italia tra ternana e juventus che potrebbe scombussolare tutti i play off veramente cose da pazzi pensate primo turno del gione a alessandria juventus 23 siena arezzo arezzo ha già rinunciato quindi passa al siena novara albinone f gelone b san benedettese padova e qui ci siamo ferralpi falò modena malbondena ha già rinunciato quindi passa al ferralpi salò piacenza triestina il piacenza ha già rinunciato e passa la triestina roba da torneo da bar non da federazione insomma un calcio veramente incredibile e ci sono tante intersecazioni che poi dipendono tutto da tutte dal risultato della finale di coppa italia tra juventus under 23 e ternana che anche per chi vi parla è difficilissimo spiegarvi cosa succederà certo il calcio della terza serie in giù sta affogando non ci sono più soldi che vengono tutti fagocitati dalla televisione e distribuite anche tra l'altro un party completamente sbagliate ineguali alla serie a e poco alla serie b cosa accadrà all'apertura poi del campionato 2020 2021 le previsioni dicono che ci sarà una ecatombe di squadre impossibilitate a sostenere economicamente questo calcio del terzo millennio la fine del calcio potrebbe essere l'inizio ciao a tutti